Eccopo, sembrava che portavate a casa il risultato sul 2-1, poi dopo che è successo? È successo, abbiamo fatto una buona serie di battute di Chester, bisogna dare merito all'avversario, però siamo lì, siamo lì sicuramente, quindi siamo in crescita, è una cosa positiva, non eravamo consapevoli e volevamo dimostrarlo nel senso di portare in campo quello che stavamo facendo anche in allenamento, quindi siamo molto sereni e convinti di quello che possiamo fare. Adesso gara 2 a Modena, che partita sarà? È una partita di play-off, una semifinale scudetto, quindi sarà una partita difficile come è stata questa, lunga, dobbiamo stare lì come abbiamo fatto oggi con una vera squadra e alla fine sono convinto che porteremo a casa un buon risultato.